E' una calda mattina d'estate, un paio di amici, zaino in spalla e partiamo alla scoperta del territorio che ci circonda quotidianamente. Direzione Ascoli Piceno, cascate della Volpara. Sono emozionata, oggi è la prima volta, la prima volta che faccio un'escursione con questo gruppo di amici e che vedo le cascate. Chissà come saranno. Ci addentriamo nel bosco, i raggi del sole caldo e splendente filtrano attraverso le foglie di altissimi alberi. Siamo immersi nella natura, intorno a noi il verde, il colore dei fiori, l'odore del muschio e di ruggiata, l'aria fresca che sfiora la pelle, il canto degli uccelli ed il rumore dell'acqua che ci accompagna lungo il tragitto. Durante la camminata incontriamo una grotta ed un ruscello che corre sulle vigate i lastroni di arenaria su cui ci fermiamo a giocare. Mi piace sapere che questa strada ha molta più storia di quanto possiamo immaginare. Qui, proprio dove sto passando, transitarono migliaia di pastori, briganti, contrabandieri, coloni, partigiani e donne che portavano a Valle del Carbone, intonando canzoni d'amore nonostante il duro lavoro. Finalmente arriviamo alle cascate, queste imponenti rocce modellate nel corso degli anni dall'acqua che si impone anche se incontra ostacoli lungo il suo cammino. La natura è così bella e suggestiva che spesso resti in silenzio, ti lasci travolgere dai pensieri e dalle emozioni. Così anch'io mi fermo ed inizio a riflettere. La vita è proprio come quel filo d'acqua, non importa gli ostacoli che incontrerai, se quella è la tua strada e pensi sia giusta, allora devi percorrerla. Non lasciarti abbattere, devi lottare affinché essa possa concretizzarsi e se cadrai non avere paura. Alzati e continua, proprio come una cascata, prosegue inesorabilmente il suo cammino senza mai tornare indietro.